I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I am a lead, and when they lay me down a rap, I know I was always rapping Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi sono qui finalmente perché sto pubblicizzando il server TeamSpeak dove mi potete trovare me, dove potete trovare tutti gli ITL Team Quindi mi raccomando ragazzi, io vi lascerò il link in descrizione dell'address di questo server di TeamSpeak Vi ricordo anche che quando entrate dovete semplicemente aspettare 30 minuti che il bot vi ranka a utente E poi siete tutti perfetti a posto, vi creerò le vostre stanze, se ne richiedete altre o robe varie del genere Avrete dei permessi esclusivi e per i Top Donator ci saranno nuovi permessi esclusivi e robe del genere Niente ragazzuoli, penso che questo video è durato pochissimo Comunque in questo video ci sarà un grande spoiler Il grande spoiler è che entro la prossima settimana ragazzi ci sarà un video, un video assurdo Che io spero che voi vediate perché ho comprato una cosa per mia mamma Quindi ci sarà un video molto molto particolare Spero che tutti lo andate a vedere Mi raccomando, come ho già detto prima in descrizione vi lascerò il link Cioè il link, l'address comunque del... scusate per tutta questa confusione Però veramente ragazzi, scusatemi anche per il fatto che oggi non faccio live perché sono stanco Sto continuando a fare live tutti i giorni, è veramente stancante Voi che comunque guardate non è stancante per voi, per me invece lo è molto molto Infatti non ho toccato Fortnite da stamattina, quindi pensate un po' Comunque ragazzuoli, io ringrazio veramente di cuore le persone che hanno fatto sì Che io sono riuscito anche a comprare il doppio schermo Ho comprato la fotocamera barra videocamera che è qualcosa di fantastico Ringrazio Heisenberg che mi ha aiutato a sceglierla E comunque ho anche comprato appunto il regalo che vi ho detto prima per mia mamma Ragazzi, che vi devo dire? Spero che veniate tutti nel TeamSpeak così per parlare un po' insieme anche nella pubblica Un bacione dal vostro Darkhouse92 e noi penso che ci vedremo domani o con un video o con una live Bella ragazzuoli Woohoo! Ciao! 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 Grazie a tutti.